La rapida visita fra le opere prescelte ai concorsi della regina, ospitata nel grande salone dei corazzieri e in altre sale antico del Curinale. La mostra accoglie tutte le opere selezionate nella prima gara e seguite a celebrazione delle grandi gesta della guerra e della vittoria, destinate a costituire il primo nucleo della erigenda galleria celebrativa dell'eroismo del soldato italiano. Grazie per la visione!